Valeria, quando ti abbiamo chiesto di venire a recitare questo pezzo per noi hai subito detto di sì, non hai avuto neanche un dubbio. Beh, questo è un film meraviglioso, I cento passi di Marco Tullio Giordana è un film che io amo moltissimo, penso che tutti dovremmo, insomma, vederlo, rivederlo, vederlo nelle scuole Peppino Impastato è stato, su malgrado, un eroe è un faro, dovrebbe essere un faro del nostro paese, della nostra cultura C'entrano in qualche modo anche le tue origini siciliane, secondo te, nell'affezione a questo tema? Allora, diciamo che le mie origini siciliane mi hanno fatto da sempre interessare, insomma, avere un po' l'attenzione su questi temi però, come sappiamo, diciamo che la mafia ha avuto, ha il suo quartier generale in Sicilia però è un fenomeno non regionale ma, ahimè, nazionale e internazionale diciamo che da dopo le, insomma, tutte le, il lavoro, le indagini di Falcone abbiamo capito che la mafia va dove c'è il potere, dove c'è il denaro, no? Il famoso fall of the money, no? Come diceva Falcone E quindi è un fenomeno internazionale Poco fa abbiamo ascoltato la voce di Peppino Impastato tu avresti mai pensato che la sua voce potesse essere in qualche modo considerata divisiva da qualcuno? È assurdo, è assurdo considerare, cioè, come dire, adesso ho citato Falcone come pensare, so, che Borsellino perché in gioventù o comunque anche, insomma, durante tutta la sua vita non ha mai nascosto le sue, insomma, la sua vicinanza a partiti di estrema destra non ha niente a che fare cioè, a volte si distingue quello che è politica da quello che è qualcosa di, insomma, partitico da politico Anche da etico in qualche modo E da etico, ovviamente E questo è qualcosa che ha a che fare con la politica nel senso più alto del termine l'antimafia non può essere divisiva Allora girerei il tema al fratello di Peppino Impastato Giovanni Impastato collegato con noi da Torino Buonasera Giovanni Buonasera, buonasera, grazie per il mio diritto Signor Giovanni Signor Giovanni, Peppino era una persona ironica Secondo lei come avrebbe preso la notizia di cui stiamo parlando? Beh, sicuramente l'avrebbe preso con grande ironia Ci avrebbe fatto una bellissima trasmissione di onda pazza Voi sapete che Peppino conduceva quella trasmissione all'interno della sua radio dove prendeva in giro i mafiosi dove prendeva in giro un po' tutto il contesto dominato dalla cultura mafiosa Secondo me lui avrebbe reagito in questo modo perché quello che noi abbiamo visto in questi giorni è una cosa orribile disumana ma soprattutto buffa proprio ridicola sotto certi aspetti allora secondo Peppino lui avrebbe fatto una trasmissione in questo senso ci avrebbe fatto ridere ancora di più Giovanni, in realtà i ragazzi avrebbero voluto intitolare la scuola a Rosario Livatino il giudice ucciso giovanissimo sempre dalla mafia dopo essere stato irriso dall'allora presidente Cossiga quindi non si può dire che questi ragazzi siano disinteressati al tema della mafia Peppino tra l'altro aveva proprio frequentato quel liceo che avrebbe dovuto essere intitolato a lui che scuola è? Che ricordo aveva suo fratello di quella scuola? La scuola che lui ha frequentato per cinque anni chiaramente ha conosciuto tante persone ha vissuto una parte della sua adolescenza della sua gioventù ecco diciamo che questi sono un po' i ricordi però il fatto che i ragazzi dicono che non hanno nulla contro Peppino e poi aggiungono che era divisivo e poi aggiungono che non è il caso di intitolarlo a lui che poi in un certo senso non so Livatino fino a che punto possa essere cioè diciamo sia stato sicuramente una proposta loro ma io penso che sia stata una scusa soprattutto per cercare di mantenere l'altro nome come infatti il sindaco di Partinico l'amministrazione comunale di Partinico hanno fatto tutto il possibile hanno provato anche delle delibere in funzione del fatto che il nome doveva rimanere a Sante Saverino che praticamente era un fascista era un razzista uno che aveva firmato le leggi razziali cioè qualcosa di terribile che poi dopo successivamente dopo la caduta del fascismo durante la prima fase della prima repubblica lui ha tentato di defascistarsi come dice come dire ha tentato di rinnovarsi di riciclassi aderisce al movimento sociale italiano non contento aderisce alla democrazia cristiana e va a prendere rapporti con la peggiore mafia criminale di Partinico per capirci Frank Coppola la peggiore mafia criminale di quel territorio allora mi pare che qui stiamo giocando veramente col fuoco altro che divisivo e secondo lei che cosa possono aver visto di divisivo in suo fratello? è divisivo dalla mafia è divisivo dai fascisti è divisivo un po' dal razzismo e aggiungerei pure è divisivo dalla Lega dai leghisti perché chiaramente il sindaco di Partinico diciamo che è federato un po' con la Lega Nord e sulla Lega Nord noi abbiamo tantissime cose da ridire perché ci sono stati anche dei precedenti quando un altro sindaco Aldegani di Ponteranica ha tolto l'intitolazione di una biblioteca che era stata intitolata Peppino su proposta dal basso dalle associazioni dalle scuole e quel suo primo atto amministrativo dopo che è subvenzato al precedente sindaco è stato proprio questo allora vedete i conti tornano questa è stata una strumentalizzazione politica questi ragazzi praticamente sono stati colti di sorpresa sono stati strumentalizzati perché l'obiettivo era quello cioè io non ce l'ho contro di loro cosa direbbe signora Impastata a questi ragazzi lei? ma io li voglio inconciare io non voglio sconciarmi con loro assolutamente li voglio inconciare voglio raccontare la storia di Peppino perché se loro sono arrivati a questo punto significa che non conoscono Peppino non hanno letto mai un libro su Peppino non conoscono la loro storia perché non avrebbero agito in questo senso non avrebbero detto che Peppino era divisivo perché poi sono ragazzi anche svegli sicuramente c'è stato una mano all'esterno che ha tentato di strumentalizzarli è tutto il discorso e ora io diciamo che con questa polemica la dobbiamo smettere per un semplice motivo perché tutto l'iter che c'è stato dietro a questa vicenda tutto il percorso è stato un percorso democratico alla luce del sole senza nessuna ingerenza nei confronti dei ragazzi e vedete che il sindaco di Partinico l'amministrazione comunale di Partinico che se ne è inventata di tutti i colori è stata smentita dalla prima preside quella precedente che è la professoressa Vallone in un convegno di alcuni giorni fa e poi dalla successiva preside quella attuale della professoressa Lafata hanno letteralmente smentito tutto quello che sostiene il sindaco e l'amministrazione comunale di Partinico perciò smettiamola subito cerchiamo di fissare la data della commemorazione cioè fissare la data dell'intitolazione dopo che vengano svolti gli ultimi atti formali da parte del prefetto e del provvedorato degli studi bisogna fare questo Giovanni guardi mi scusi noi abbiamo fatto un piccolo esperimento scusi abbiamo fatto un piccolo esperimento per vedere se Peppino Impastato è poi così divisivo la risposta è no però forse non per i motivi che speravamo vediamo insieme dei ragazzi siciliani stanno protestando perché si vorrebbe dedicare il loro liceo a Peppino Impastato ma trovano che sia una figura divisiva ma il mafioso giusto? Peppino Impastato Peppino Impastato è un nome Peppino Impastato è quello della dei è quello che ha fatto quel bellissimo film non lo conosco personalmente perciò non lo so non saprei non so chi sia però non trovo niente di divisivo ecco io vengo dal liceo classico Cesare Beccaria o Beccaria non è che mi rappresenta parecchio di politica il resto non mi interessa niente forse sbaglio anche ha creato Radio Out e ha aiutato smascheramento tra virgolette della mafia in Italia è stato un personaggio molto coraggioso non vedo cosa ci sia di offensivo una persona che ha combattuto ed è morto per quello che credevo era un eroe Peppino Impastato un essere umano vero viva Peppino Impastato viva Peppino Impastato viva Peppino Impastato Giovanni che cosa direbbe a questi passanti soprattutto la prima parte beh la prima parte direi che sarebbe giusto approfondire un po' la figura di Peppino perché voglio dire il messaggio di Peppino è molto educativo non è soltanto un messaggio di impegno civile politico culturale sociale è un messaggio di rottura educativo perché ripeto già voi l'avete detto la nostra famiglia era una famiglia di origine mafiosa e Peppino opera questa grande rottura che non avviene solo nel contesto sociale ma soprattutto all'interno della propria famiglia ecco questi sono i messaggi forti educativi che lasciano appunto un segnale dei giovani ecco perché io non sono molto convinto di quel sondaggio che hanno fatto i giovani e non sono convinto di quest'alta percentuale che si è opposta all'intitolazione della via Peppino Valeria tu che cosa pensi invece di questa mancanza di memoria e coscienza in parte dei pedoni l'importanza insomma di intitolare un istituto a Peppino Impastato non è soltanto ovviamente è un omaggio è un riconoscimento che gli dobbiamo dovremmo farlo in ogni città ma è anche un modo per conoscerlo perché se io vado in quella scuola mi chiedo chi è quello che insomma dà il nome al mio istituto e quindi è anche un modo per conoscerlo ma penso per esempio anche a Don Peppe Diana che due giorni fa è stato il trentesimo anniversario della sua morte e della sua uccisione diciamo anche lui è una figura che è stata quando è morto delegittimato è stato infangato e la famiglia si è molto battuta per stabilire che l'uccisione è avvenuta per mano della camorra e non delitto passionale non per collusione con i clan insomma quindi è necessario far luce su queste cose perché questi personaggi sono proprio il faro della nostra democrazia e devono essere il faro della nostra cultura Giovanni secondo lei ci servirebbe un'ora di antimafia settimana nelle scuole per rinverdire la memoria e la storia io direi di sì anche di più forse di un'ora però noi come Casa Memoria che chiaramente la nostra associazione che svolgiamo un lavoro importante noi siamo sempre presenti nelle scuole a parte se c'è l'ora o no di insegnamento noi siamo presenti perché dobbiamo soprattutto partire da lì educare i giovani alla giustizia sociale educarli all'antifascismo ecco per esempio l'antifascismo diciamo è un dovere morale che noi ecco perché poi i ragazzi si esprimono in questo modo perché chiaramente dobbiamo noi far di far operare nelle scuole che il fascismo è un crimine al pari della mafia ecco e questo lo dobbiamo ribadire soprattutto come insegnamento nelle scuole per qualcuno è diventato divisivo anche quel tema come lei sa ma è chiaro che è divisivo perché purtroppo è scomodo per molti oggi ogni tanto mi capita di parlare di antifascismo nelle scuole può capitare pure che qualche insegnante mi dice ma lei sta facendo politica qui no non è politica è qualcosa che si lega alla nostra costituzione italiana che nasce dalla resistenza antifascista allora bisogna partire dall'antifascismo nelle scuole grazie grazie a Giovanni Impastato grazie per essere stato con noi in collegamento e grazie a Valeria Solarino per essere stata qui e aver recitato 100 passi di Marco Tillo Giornale in questo modo e averci dato una mano a onorare la memoria di Peppino Impastato grazie Val